Il teatro è dubbio, ricerca, speculazione filosofica forse e sì anche spettacolo e non è o non dovrebbe essere attività elitaria, chiusa, esclusiva, tanto più quando in scena c'è un testo di chi, come Samuel Beckett, si è fatto molte domande sugli angoli bui dell'animo umano. A dare voce a Beckett è la nuova produzione del teatro immediato, aspettando il finale, interpretato da Vincenzo Mambella ed Edoardo Oliva. La compagnia sarà in scena da venerdì 16 a domenica 18 settembre alle 21 nel piccolo anfiteatro Antistante il Nuovo Spazio. Il lavoro diretto dallo stesso Edoardo Oliva, scenografia di Francesco Vitelli, è frutto di un progetto di teatro inclusivo realizzato con il sostegno dell'amministrazione comunale di Pescara e al quale partecipano, oltre a Gianna Camplone, presidente dell'associazione Diversi Uguali, anche alcuni ragazze disabili provenienti da precedenti esperienze teatrali. Novità fra le novità, la rivisitazione in dialetto abruzzese. Questo non è solo un modo per avvicinare l'alto alla fruizione popolare. In realtà Beckett ha sempre sostenuto che nelle sue opere il tragico e il comico si dovessero toccare l'astrazione, la decontastoralizzazione in cui si muovono i suoi personaggi, doveva trovare però una vita poi concreta nello stesso operare dei suoi personaggi. Riteniamo che con il dialetto questa scintilla, cioè questo punto d'incontro sia sicuramente molto più efficace e sorprendente. In scena siamo io e Vincenzo Mambella che poi abbiamo anche curato la regia e l'elaborazione drammaturgica. I testi sono da Beckett, aspettando il finale e il titolo e la sintesi tra aspettando Godot e il finale di partita che sono i capisaldi poetici di Beckett. Sì, questo è un progetto particolare che poi sta dentro un progetto ancora più ampio. Noi abbiamo inaugurato uno spazio a maggio in via Pietronenni a Pescara in una struttura che vent'anni fa fu destinata dal comune a famiglie di disabili. E quindi il progetto che da tanti anni noi sviluppiamo, cioè quello della cultura dei legami, in questo caso trova proprio una sintesi perfetta. Si utilizzerà Beckett e il teatro per comporre in questo caso la frattura tra centro e periferia e abilità e disabilità.